E ora la pagina sportiva, vigilio di campionato per le abruzzesi di Serie C, domani alle 21 le ultime trasferte, il Pescara di scena a Pistoia, ma su questa gara le ultimissime in collegamento con Enrico Giancarli, che vedo già pronto. Enrico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine, un saluto a te e un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8, domani alle 21 a Pistoia, la penultima gara della stagione regolare, il Pescara è impegnato contro la Pistoiese per continuare a sperare nel terzo posto. Tra i padroni di casa, gli ex Bocic e Di Massimo, ma non ci sarà il pericolo numero uno, l'attaccante in mano fermato per un turno dal giudice sportivo. Stop di un turno anche per il centrocampista del Pescara, Deirisio. Non arrivano al momento certezze sulla presenza di delle monache domani a Pistoia, l'attaccante classe 2005 nel ritiro con la nazionale di Corradi a Coverciano, ne sapremo di più questa sera. Per quanto riguarda le scelte del tecnico Luciano Zauri, questa volta ancora ci sono dei dubbi di formazione legati soprattutto alle condizioni dei centrocampisti, perché ha recuperato Memusha, ma è stato fermo per un lungo periodo causa influenza. Bisogna valutare come sta Pontisso, abbiamo già detto, della squalifica di Deirisio. Torna regolarmente a disposizione Gianmarco Ingrosso in difesa, ci sarà anche Mirko Drudi, mentre non ci sono dubbi sull'utilizzo di Clemenza, di Ferrari e di Durzi. L'appuntamento per ulteriori aggiornamenti è questa sera con Anteprima Pescara, con il nostro Massimo Profeta. Per il momento, se non ci sono domande Carmine, ti restituisco la linea, ricordando che nel processo relativo alle plusvalenze davanti al Tribunale Nazionale Federale, la Procura ha chiesto per il Pescara 125 mila Euro di ammenda, 12 mesi e 20 giorni di inibizione per il Presidente Sebastiani, 7 mesi e 20 giorni per Gabriele Bancoschi, 8 mesi per Roberto Druda. La sentenza è prevista per il pomeriggio di venerdì. A te Carmine!